Per entrare nel cortile dell'ex abbazia di Santa Maria a Cappella Vecchia si passa dal vico omonimo. In fondo al vico si nota un bel portale di marmo del 1506 che introduce in una piazza che occupa il luogo dell'antico monastero. Questo era stato costruito sul sito dove si trovava un vetusto romitorio. A quell'epoca attorno al 1000 la zona era periferica rispetto a Napoli che fu poi monastero dei monaci basiliani quindi dei benedettini e che fu infine soppresso nel 1788. Fu allora acquistato dal marchese Sessa che trasformò i suoi ambienti in locali residenziali dove risiedette tra l'altro Sir William Hamilton figlio di un duca scozzese e ambasciatore della Gran Bretagna a Napoli che vi sistemò Amy Lyon figlia di un fabbro meglio nota come Emma Hamilton poi amante di Lord Nelson l'ammiraglio. Qui l'ambasciatore sistemò anche le sue collezioni di archeologia. Molte cose venivano da Pompei ed Ercolano e di scienze naturali.